Ciao ragazzi, ben ritrovati dall'Inter di Football qui a cercare di creare del calcio interstellare per voi, un piccolo occhio alla formazione e ci siamo in divisione 3, veniamo da 4 vittorie di fila, abbiamo iniziato col botto, oggi grande giorno per l'Inter nella realtà con l'impegno, non voglio dire che deciderà una stagione ma che deciderà il piano, il livello della stagione che è già, diciamo, meno di eventi incredibili, dovrebbe portare un trofeo importante, uno scudetto che significa tanto per i nerazzurri ma ovviamente la Champions è la Champions, perciò dicevo il livello, se potrebbe essere una stagione vincente o una stagione esaltante, la differenza secondo me è quella Allora, vediamo chi è il primo avversario di oggi, è Ispro Not Found, seconda divisione, quindi dalla terza un top 800, direi decisamente un avversario da non sottovalutare, come al solito ragazzi vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti perché mi aiuta tantissimo Andiamo a dare un'occhiata ai nostri ciala e turami informessi ma ci piace vederlo, bastoni però non presente, c'è anche il nigno, vediamo l'ottima foto Sentite, io il nigno così lo voglio mettere al posto di Lauti, lo voglio mettere, mi dispiace un casino per bastoni perché è dura qui Neymar, Messi, Shevchenko, e io a questo punto è difficile, il punto è chi si mette adesso al posto di bastoni dovremmo mettere a Cerbi Dovremmo mettere a Cerbi anche se Darmian andiamo a Andiamo di a Cerbi ragazzi, andiamo di a Cerbi Allora, per le marcature io le andrei a mettere su Messi e Neymar Ci siamo Una bella situazione qui, eh, a livello di stato di forma, soprattutto per i terminali offensivi Direi che ci siamo Mamma mia ragazzi Quindi si comincia questo mercoledì Speriamo poter continuare la striscia positiva Siamo partiti decisamente benissimo Ajax, Inter, Ajax e l'Inter a cominciare si parte Peccato per questo passaggio in profondità per Mkhitaryan Che l'idea non era Ci arriva Barela per un pelo Però deve se la riprende, allora riparte l'Inter Cercare il nigno Sanchez per Di Marco Un passaggio un po' lento ma alla fine che funziona Ancora il nigno Di nuovo per Di Marco Che guadagna il fondo, il cross al centro è proprio pessimo Purtroppo E qui, attenzione a Cerbi che non può arrivare ovviamente su Su Messi ma Mkhitaryan fra un gran recupero qui Prova a controllare il po' nell'Inter con calma E a Cerbi che va proprio da Di Marco Si spinge di nuovo sulla sinistra Di nuovo per Cialanoglu Centralmente a cercare il nigno Sanchez L'1-2 Mamma mia che aggancio che ha fatto lì il difensore Bravissimo ancora Di Marco Allora entra e prova a ripartire Con Mkhitaryan sulla destra Si fa vedere Marco Strom Che in realtà non si fa vedere Poi Mkhitaryan prova a cambiare tutto per Ciala appoggia indietro Sanchez Non riesce a controllare bene questa palla Qui l'occasione poteva essere molto buona No Dima stava per fare un erroraccio ragazzi Ci salviamo La situazione sarebbe stata parecchio complicata Per Pavar Per Mkhitaryan che va da Dumfries Si fa vedere Mark Sturam Poi di nuovo per lui Con Dumfries che va da andare a fondo Metti un buco Certo ci arriva Non ci arriva in realtà il nigno Poi a giro Cialanoglu con il sinistro Non è il suo piede Tiro che Esce molto debole alla fine Mamma mia Quest'anticipo L'intra che si muove bene tra le linee Ma è sempre molto complicato Ancora Barella questo recupero Di nuovo cercare qui Mamma mia Dai Dumfries con questo anticipo che va fatto Torna indietro qui Neymar qui Che va subito fallo praticamente E fa tutto da solo Neymar Prende il pallone scarta tutti Qui noi un po' Un po' Fermi Dai il nigno che ce la fai Non riusciamo a crossarla Qui voglio andare un po' in offensiva ragazzi Nooo Mamma mia che brutto questo Mamma mia Un po' di errori E qui poi Erroraccio L'intra che Prova a giocarsela qui molto bene Con Ciala che è partito Poggia di nuovo Dumfries Che guadagna il fondo Il cross a centro Il nigno è solo Non ci credo La parata incredibile E senza senso di Peter Cech Poi il nigno Che ci ha provato a giro E qui mamma mia Quanto si sente che La Cerbi È un problema Sè E niente Messi corre da solo Di Marco Passa davanti Ma non prende il pallone È 2-0 No ragazzi Sono due E sono due Ancora murato E altro recupero Qui di Rijkaard È tanti anticipi a vuoto Quei si vede Poi La recupera finalmente Devre Abbiamo provato anche Andarcene con Ciala Ma è difficile È molto difficile L'intra che spinge ancora Ecco il cross di Miki Su cui si doveva E si poteva far di più Qui ragazzi Il discorso è che A Cerbi Mamma mia Si è sentita tanto La differenza Un paio di occasioni Clamorose Con Marcus Turam E con E con Sanchez Colpo di testa Lui due gol Presa palla Neymar Messi ha cominciato a correre Non siamo riusciti A fermarlo Peccato ragazzi Questo due gol Su cui Qui L'assenza di bastone Si sente tantissimo Io sono veramente tentato E penso che lo farò Devo mettere D'Armian Perché A Cerbi Come potete vedere Contro questi attaccanti Così Non è Non è Semplicemente Non è un'opzione Disponibile Non si può fare Mamma mia Riparte dietro Fortissimo Con Sanchez Che prende il palo E è andato da solo Lui ha coperto L'altro attaccante E noi siamo riusciti A passare A pareggiare A pareggiare Mamma mia Qui Pensavo quasi Di riuscire A passare Poi Neymar Che non controlla Il pallone Abbastanza stranamente Miqui che Però Non è preciso In questo passaggio La recupera A barella Che peccato Per questo Brutto errore Bravo A spazzare via E il ligno E il ligno Che si fa colpire Cioè In realtà È Nesta Che si fa colpire Il pallone Peccato Ancora per Miqui Che non riesce A dare Sta palla Darmian Appena entrato Fa vedere Prova a fare Di meglio Qui Un po' Anche sfortunato Quella Viera In questo passaggio Mamma mia Che salvataggio Di Sommer Varella Che l'alza Per Turama Che va Da Ligno Sanchez Ancora Non era Ma l'ida Di Marcus Turama Anche se Vi dico In tutta onestà Non era lui Il mio Il mio target Che è bravo Qui Devre Ciola che scende Dai Marciala E il nigno Non ci credo Ragazzi Che azione A rientrare Qui Non so perché Il nigno E Dai Bari Non so perché Il nigno E E E Turama Erano a parte Invertite Qui Fallo No raga No Dai fallo Questo Non ci credo Altro salvataggio Di check L'Inter Che Sta provando A spingere In tutti i modi Taidi ma metti Un buon cross Ancora altro tiro C'è Qui In difesa Devrei Anticipare Sempre l'Inter In tour de force Qui Non passa Sta palla Vediamo se Almeno Rimessa Laterale Sì Lo è Settantonesimo Ragazzi Quanto stiamo Costruendo Eh ma il problema È che andiamo Sempre a cercare Il nigno Sanchez Quindi diventa Difficile Mamma mia Ancora Check Qui Turam Fa un movimento Bellissimo Ancora Peter Check Calcio D'angolo Con l'Inter Che prova Palla che resta Lì Marcus Che calcio Mamma mia Devono pareggiare E fanno bene A prendersi Qualche rischio Anche i difensori Per accompagnare La palla Lanciata in avanti C'è sempre il nigno Qui a combattere Su queste palle E niente Non c'è più Nessuno a cui darla Poi passa la palla Turam No Dai No raga Perché non dà Il pallone lì Perché non lo dà Ragazzi Vi prego Questo è Meno male che Darmian Salva tutto Dobbiamo andare Da Turam Ragazzi Se vogliamo cercare Una sponda Che possa funzionare Poi Dunfrees Vai Dunfrees Scindi Che brutto Questo cross Brutto Brutto Buona Dai Bare Prova da mettere Pausa ragazzi Perché voglio Sostituire Ovviamente No raga Non ci credo Davvero Non ci credo Davvero Non ci credo Davvero Dai con l'anticipo E lui a questo punto Prova a tenerla E finisce così Ragazzi Arriva la prima sconfitta In terza divisione Con il nostro avversario Che fa due gol Incredibili Con giocate personali Poi l'Inter Ne fa tante Di azioni Ma Cech Fa due parate Su tutte Che sono incredibili Io penso Che il pareggio Lo meritavamo Veramente Un peccato Più che altro Ragazzi Io penso Che la parte L'abbiamo persa Veramente Con Con Acerbi In difesa Perdiamo un po' Di punti Un peccato Ma quel Messi E quel Neymar Ragazzi Sono inarrestabili Un ex 75esimo Al mondo Per carità Molto forte Mamma mia Ma Acerbi Acerbi È veramente Ingiocabile Probabilmente Lo si può Provare a giocare Quanto meno Forse al centro Ma come Braccetto A differenza Da quello che vediamo In realtà Acerbi Non si può Ragazzi Non si può Non si può Lento 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 Messi E Neymar Ci sono sgusciati Via Come fossero Nulla Peccato Arriva la prima Sconfitta Ragazzi In terza Divisione Dopo Comunque Un buon Filotto Un peccato Forse Quello Il gol Che potevamo Evitare Un po' Di più Che ci siamo Fatti fregare Un po' Peggio Quello di Messi Che sfugge Con Acerbi Che non riesce A prenderlo C'è poco da fare Quello con Neymar Ragazzi L'abbiamo giocato Abbastanza male Lui ha provato A fare Da solo Letteralmente Lì avevamo Da quel lato Avevamo Pavard Dunfris Su cui si doveva Giorare un po' Meglio C'è qualcosa Da recriminare Sì ragazzi Ma purtroppo Quando il materiale È questo Bisogna È il possibile Secondo me Fatemi sapere Cosa ne pensate Voi nei commenti Se avete Dei modi Per fermare Quelle Le scorribande Di giocatori Come Messi Neymar Ragazzi È tutto per l'episodio Di oggi Vi ringrazio Per aver guardato E ci vediamo Alla prossima